Sabato 7 aprile, nell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Gadda, è stata inaugurata la mostra itinerante dei soldati parmensi nella Grande Guerra, arricchita con i cimelli storici di Claudio Buzzoni e Magda Della Pina. Sono intervenuti il sindaco Emanuele Agrenti e Teresa Gardelli per il Comune di Fornovo, i dirigenti dell'Istituto, Bernardo Borri, presidente della Fondazione Borri e Graziano Tonelli, direttore dell'Archivio di Stato di Parma, curatore di una mostra fatta e pensata per le scuole. È stata pensata appunto per essere rivolta alle scuole anche, quindi un aspetto anche didattico, essendo stata organizzata e costruita dall'Archivio di Stato di Parma in collaborazione con la Fondazione Borri e con la nostra scuola di paleografia archivistica e diplomatica che è all'interno dell'Archivio di Stato. Quindi hanno lavorato direttamente i nostri studenti della scuola per l'allestimento e per la preparazione del catalogo. Sì, dal foglio alla trincea riguarda appunto i soldati parmese e la Grande Guerra, quindi è una mostra che riguarda proprio chi andò al fronte per combattere. È un ricordo, è un riconoscimento a queste persone che in parte persero la vita. Migliaia di giovani, solo per il comune di Fornovo, in 98 a ricordare il sacrificio, sono stati catapultati alla cieca in una guerra senza saperne il perché e di veri motivi. Ho detto prima ai ragazzi della scuola che erano presenti che sono stati molto fortunati nella loro vita per il momento e mi auguro per sempre di non avere nessun contatto con la guerra, mentre questi ragazzi che andarono al fronte erano stati catapultati senza avere nessuna informazione in parte perché in parte erano anche analfabeti, quindi non c'era internet, non c'erano tutti i canali che abbiamo adesso di comunicazione, quindi questi arrivavano magari partivano da Fornovo o dalla Bassa e arrivavano e si trovavano di fronte a una situazione totalmente sconosciuta. Un alto contributo per le zone di montagna, ma con il più alto tasso di diserzioni. La montagna sì, ebbe un alto tasso anche di diserzioni, soprattutto la zona di Albaretto, Bercetto, Borgotaro, perché ovviamente gli uomini erano pochi, erano indispensabili anche alle famiglie, quindi oltre che nascondersi era necessario che stessero, se no le campagne sarebbero state totalmente abbandonate. Inoltre era molto più complesso andare a ritrovarli dove si nascondevano, quindi era come successo poi durante la seconda guerra mondiale con tutte le guerre partigiane. Presenti Caterina Seliprandi, vicepresidente della Fondazione, Roberto Spagnoli dell'Istituto Nazionale delle Guardie d'Onore del Pantheon, una delegazione degli studenti dell'Istituto e il gruppo Alpini Locale. È stata picca la risposta degli studenti per dire la loro su una grande guerra, ma lontanissima. In autunno a Parma, con tutto il materiale raccolto, mostra finale dal titolo La Vittoria della Memoria. La mostra rimarrà aperta al Garda di Fornovo fino al 21 aprile negli orari da lunedì a sabato dalle 9.30 alle ore 16.